Ben tornati! Perché ben tornati? Eh sì, questa è una bella domanda, perché oggi volevo raccontarvi una storia. Questo video uscirà di domenica. La domenica, mi raccomando, segnatevelo, sarà il giorno in cui vi racconterò delle storie, delle mie avventure, che ritengo particolarmente interessanti. In questo video quindi voglio parlarvi del perché ho detto ben tornati. Perché io questo canale non nasce, ma diciamo risorge. Diciamo perché due anni fa, esattamente nel 2015, no scusate, nel 2016, apri un canale su YouTube, questo canale si chiamava, pensate bene, Torrix, che nome di... E niente, con questo canale io facevo video, parlavo di video dove facevo gaming principalmente, facevo giochi tipo Minecraft, Glash of Clans, Glash Royale, insomma le mod del momento erano quelle, io facevo quelle là. Perché mi piaceva fare, è da sempre stata una mia passione fare video, e tuttora infatti, sto ricominciando, perché è stata sempre una mia grande passione. Facevo quei video con un'attrezzatura davvero, davvero scarsa. Nulla che fare, nulla che vedremo con quello che ho adesso, non che io adesso abbia tutta questa attrezzatura. Diciamo che mi mancano tante cose, tra cui la fotocamera, infatti questo video è registrato con un telefono, il mio Xiaomi Mi A1. Ai tempi non avevo, non mi registravo la faccia, registravo solo lo schermo, ma comunque registravo l'audio e lo schermo che catturavo era di un Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Samsung Galaxy Grand Neo. Che tuttora ho conservato. Eccolo qua, questo è un pezzo di storia. Con questo qui ci ho fatto la storia, che purtroppo rimarrà una storia nascosta. Perché nascosta? Perché quei video sono stati cancellati. Ho avuto un periodo della mia vita in cui ero ossessionato dal minimalismo, dal avere tutto in ordine, tutto pulito, l'essenziale. Cancellavo tutto, tutto quello che era superfluo. In momento quei video per me erano superflui e li ho cancellati. Pessimo errore. Ragazzi non cancellate mai il vostro passato, siate fieri del vostro passato, non cancellate nulla. Questo video è principalmente per riferirvi a questo messaggio, perché secondo me è una cosa importantissima. Se io potessi tornare indietro lo farei, assolutamente. Darei di tutto per rivedere quei video. Quanta passione io ci mettevo. Editavo i video con un computer portatile, che in questo momento non posso prendere, ma comunque immaginate che era un portatile del decennio scorso, per dire. No, sì, del decennio scorso. E aveva un... due core... No ragazzi, niente a che vedere con il computer che ho adesso, sul quale ci farò un video, quindi questo qua non ne parlerò in questo video. Diciamo che per quanto riguarda il computer e il telefono, i mezzi ce li ho, mi manca solo una videocamera. La qualità non sarà quella... non sarà il massimo, però diciamo che non mi lamento. Potrei avere di peggio. Invece ho questo qua. Niente, non mi lamento, dai. Quindi editavo i computer con Sony Vegas, Photoshop, ci mettevo un sacco a fare tutto, però lo facevo ragazzi. Mi raccomando, se avete una passione, dovete farlo con i mezzi che avete, per fare pratica, e poi un giorno vedete che i vostri mezzi saranno migliori. E avrete sempre più soddisfazioni. In questo momento per me fare questo video è una soddisfazione assurda. Lo so che non è nulla di che questo video, però secondo me è una bellissima cosa. Sono davvero felice di poter fare questo video, finalmente, dopo due anni. Perché quel canale è stato aperto a settembre del 2016. Chiuso verso l'inizio del 2017, comunque non ha fatto molto quel canale. Avevo 300 iscritti, facevo 90-80 views al video, comunque niente di che, ma per me quelle là erano soddisfazioni. E sono tuttora dei ricordi bellissimi che porto. Purtroppo però non ci sono più, perché... Quindi con questo video volevo concludere questa storia. Il messaggio che vi volevo dare, quindi niente, ci vediamo nei prossimi video.